ciao a tutti allora mi vedete in condizioni sono tornata quasi umana nel senso mi sono truccata perché devo uscire però non ho fatto un get ready perché non ho moltissimo tempo quindi ho preferito fare il video già truccata quindi già pronta per uscire ho fatto questo trucco con la palette della wicon quella naughty kitty un'edizione limitata dell'anno scorso sì quella che aveva i blush degli illuminanti ora ce lo imbagnano sto lì a farvela vedere che sanno i blush illuminanti e le terre da una parte tutti gli ombrati all'altra quella a portafoglio in poche parole sto tra l'altro batti no batti beccando nel senso semplicemente sto avendo un dibattito con neve cosmetics perché ho cercato di capire come utilizzerà il meglio la duo chrome perché continuo ad avere problemi nello sfumare gli ombretti che ogni volta che sfumo vanno via però neve mi dice che non aveva non ha cancellato i post che avevo scritto ma tre post diversi tutti e tre spariti per un problema di facebook vabbè comunque adesso delle ragazze mi stanno dando dei consigli della serie applicarli con le dita ma con le dita come fai a fare un'applicazione corretta e un'altra ragazza mi dice semplicemente le sfumature si fanno con i mono quindi con i matt e non con gli shimmer ma no non è così perché ci sono dei dei trucchi fatti con gli shimmer che sono però vabbè cercherò di capire come al meglio utilizzarla nel frattempo mi vengono in soccorso le palette della wicon allora mi vedete con ho fatto ieri i pigmenti della marcella pupa che mi sono arrivati adesso ve li faccio vedere che mi sono arrivati ieri siccome avevo i capelli in condizioni pietose perché non ho fatto niente proprio per aspettare che arrivassero questi pigmenti far scaricare tutto il colore per quanto è possibile far scaricare elumen allora questo è unicorn pink adesso vi apro ve lo faccio vedere cercando di non sporcarmi ecco qua questo ha usato tempo ha sporcato il mondo vabbè non importa questo è unicorn pink che vedete eccolo qua lo vedete anche in alto ed è quello che ho applicato da qui in giù sopra invece ho applicato quindi alla crescita che vedete qui su un po meglio nel frattempo lasciate stare che ho una crescita paurosa ma il ritocco devo farlo e lo farò a breve mi sono macchiata tutta nel frattempo ho applicato ciclamino che è questo qui adesso vi faccio vedere questo è meglio perché è un po più denso diciamo che si nota eccolo vedete eccolo qua allora ciclamino è un filo più scuro ed è un filo più tendente al viola mi piace moltissimo ha dei riflessi molto belli comunque il colore ovviamente è leggermente voi lo vedete adesso con il filtro del telefono la luce artificiale è leggermente meno shock di è leggermente meno shock di elumen diciamo che ho metà ancora di questo e metà di questo quindi posso fare un'altra applicazione ma non li ricomprerò perché il prezzo è ovviamente inferiore a elumen perché questo è costato 12 e questo 11 qualcosa il prezzo è inferiore a elumen però a parità di resa io preferisco la rischia direzione manic panic costano meno di questi e hanno una buona resa quindi non li ricomprerò io mi sono fatta tentare da una pubblicità che ho visto su facebook sono colori indubbiamente bellissimi perché hanno dei riflessi sono molto lucidi però gli ingredienti non mi piacciono per niente sono pieni 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 di siliconi e quindi io li ho applicati senza stupidamente li ho comprati senza guardare il pao e le paolinci scusate però non li ricomprerò più applicati una volta allora elumen in effetti c'è un silicone però in fondo all'inci quindi gli altri sia la rischia che manic non hanno siliconi quindi preferisco o la rischia o manic quindi non li ricomprerò preferisco andare avanti con quello che ho sempre utilizzato anche se avevo voglia semplicemente di cambiare nel frattempo elimino mi arrivano le notifiche tra l'altro macchia maledettamente ho tutte le unghie macchiate a parte le unghie uno schifo ma ho le unghie macchiate ho finalmente questa è un'altra cosa che volevo far vedere ho finalmente concluso il bracciale della pandora adesso lo apro così ve lo faccio vedere eccolo qua allora come vedete la catena di sicurezza impedisce mi impedisce di perdere il bracciale quindi è più facile allora vi ricordate che avevo avevo tentato di far arrivare dall'estero un charm che poi alla fine non ero riuscita a farlo arrivare la cosa mi aveva lasciata piuttosto delusa perché era un charm che io volevo però succede avevo comprato un altro charm che mi piaceva su un sito una gioielleria online originale pandora e tutto però purtroppo dopo un mese di questo charm nessuna notizia mi diceva siccome si trattava di un charm in fuori produzione mi dicevano che andava prenotato e che bisognava aspettare ancora al che mi sono rotta le scatole e annullato l'ordine perché dopo un mese tra l'altro io tra una settimana vado giù dai miei per due settimane quindi ho detto no poi a casa non c'è nessuno ho detto guardi annullatelo non mi interessa più c'ero rimasto abbastanza male però ho detto vabbè troverò magari a palermo qualcosa che mi piace o andando in aeroporto siccome dentro l'aeroporto di orio c'è il corner pandora che ovviamente viene i chance i gioielli in generale vengono venduti a meno perché lì non c'è non c'è iva quindi ho detto vabbè passerò lì allo store pandora e vedrò cosa troverò e mi ero tranquillizzata ho detto vabbè prenderò qualcosa lì se non c'è due settimane fa più o meno sì su uno dei gruppi di vendita tra privati a cui sono iscritta di usato pandora di consigli insomma sono iscritta a vari gruppi facebook ho visto una ragazza che ha pubblicato un annuncio di vendita ovviamente originali pandora senza dubbio esteri senza certificato di perché il certificato di autenticità è solo in italia all'estero non c'è ho visto il charms che io cercavo da mesi e ha detto sì ce l'ho fatta l'ho acquistato da lei adesso ve lo faccio vedere io spero che è molto piccolo quindi spero che riusciate a vederlo è la bambolina non so se mette a fuoco vabbè credetemi sulla parola è molto piccola quindi farete fatica a vederla allora è la bambolina la kokashi la giapponesina è bellissima io ero innamorata follemente di questa giapponesina così ho deciso di terminarlo così il bracciale è finito e allora come vedete qui ci sono gli stopper che ho preso da aliexpress riusciranno i nostri a mettere a fuoco allora ho preso gli stopper da aliexpress perché sul sito pandora costano un botto questi sono argento e sono di aliexpress la catena di sicurezza il charms questo è il lucky penny che ho preso da una ragazza sempre privato in un gruppo facebook questo è gioiello luminoso l'orchidea pendente il distanziatore all'infinito che mi ha regalato mio marito il cuore maestoso che mi ha regalato mio marito questa è la prima clip io spero che riusciate a vedere costellazione rosa non so se riuscite a vederlo comunque costellazione rosa è questa qua non mette a fuoco una clip che però è libera non è perché l'ho usata l'ho sostituita con questa però mi piaceva e l'ho lasciata nel bracciale questa qui è credo che si chiami pizzo il gioiello luminoso questo qua con rosa l'iniziale di mio marito la carrozza di cenerentola della disney questa è l'altra clip quella con la fior di magnolia il gufetto con gli occhi verdi la cocasci nuova i gufetti incantevoli gufi credo che si chiami questo è fuori produzione anche questo è il pendente sorella che mi ha regalato mia sorella la catena di sicurezza è l'altro l'altro stopper allora il bracciale è finito adesso ho intenzione di cominciarne un altro ovviamente perché Pandora è una malattia quindi ho intenzione di cominciarne un altro e sto pensando ancora sto riflettendo su quale bracciale comprare ancora non lo so penso che prenderò un bracciale sempre con chiusura classica niente di particolare perché le chiusure particolari stanno avendo dei problemi quindi quelle bellissime chiusure con i fiori e cuori quelle lì mi sa che non sono molto sicure quindi preferisco mantenermi sulla chiusura classica o quella a cuore non uguale a questa ma a questa che ho adesso nel frattempo sto cercando di allacciare allacciare un Pandora da sola non è semplice bene diciamo che lo aggancerò con calma mentre bene io vi saluto vi ringrazio al prossimo video ciao ciao